Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al corso di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre prima di iniziare diamo il benvenuto a un nuovo patron che ha raggiunto la nostra comunità di elettronici entusiasti. Ciao a Dario grazie per il tuo supporto e benvenuto nella nostra comunità. Andiamo avanti col video di questa sera. Se vi ricordate durante il periodo pasquale, quindi domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, abbiamo avuto due video, parte 1 e parte 2, che riguardavano la riparazione di un alimentatore switching per ricevitore satellitare EcoStar LT8007. Se vi ricordate Guido B aveva inviato, oltre all'alimentatore che poi alla fine abbiamo riparato, anche altri due esemplari che erano messi decisamente peggio. Durante la riparazione è sorta spontanea la domanda, ma com'è stato possibile che il trasformatore avesse questa polarità invertita che impediva allo switching di funzionare? Infatti essendo un forward è fondamentale che le polarità degli avvolgimenti siano coerenti, altrimenti siccome in quel caso specifico avevamo un solo diodo raddrizzatore, questo era in inversa e non poteva portare l'alimentazione per sostenere il PWM controller. Quindi la prima cosa che voglio fare questa sera è verificare sugli altri due esemplari se effettivamente abbiamo lo stesso trasformatore con lo stesso circuito stampato. Vuoi mai che ci sia una revisione di circuito stampato che ha un'inversione di piste? E poi ovviamente tenteremo la riparazione dell'esemplare che ci risulta essere messo meglio e quindi buona visione! Ecco la busta 1, 2 e 3. In questo caso la numero 1 è l'alimentatore che abbiamo riparato e infatti riconosciamo i fili e il magnetico che avevamo analizzato durante il video. Poi abbiamo gli esemplari 2 e 3. Guido ci dice che nessuno dei due si avvia ma in particolare questo, il 2, brucia violentemente una resistenza in prossimità di questo magnetico e quindi è stato utilizzato come magazzino componenti. Di fatto alcuni componenti che servivano per l'analisi di 1 sono stati prelevati da 2, quindi direi il trasformatore e qualcos'altro. Il 3 invece non si avvia neanche e adesso andiamo a esaminare se con le informazioni presenti sul circuito stampato riusciamo a capire se si tratta della stessa versione. Ogni costruttore decide di marcare il proprio circuito stampato con un codice interno, in questo caso è stato fatto sul lato saldature con questo codice. Questa sigla si ripete esattamente sui tre esemplari, quindi sembrerebbe che la revisione del circuito stampato sia identica tra i tre esemplari. L'unica cosa che cambia è questa scritta con questo numero che cambia da esemplare esemplare e poi qualche indicazione scritta a pennarello. Ho impilato in sequenza gli esemplari 1, 2 e 3. Quindi se andiamo a guardare le scritte sembrerebbe che questo numero possa essere un seriale e effettivamente questo è il numero più alto di tutti, quindi l'esemplare 1 che abbiamo riparato sembra essere il più recente, poi abbiamo il 2 che è 3095 e il 3 3694, quindi sembrerebbe che quello meno anziano dopo quello che abbiamo riparato è l'esemplare numero 3. Sul lato componenti compaiono altre scritte, quindi altri codici, ma sono anche in questo caso identici. Quello che si nota è che l'esemplare 3 ha un montaggio che è diverso dagli altri due, sembrerebbe quasi più recente, infatti lo notiamo da questo magnetico che ha un codice diverso e un rocchetto di colore diverso e poi anche per esempio il filo utilizzato per questi induttori e altre piccole differenze sui magnetici che sono marcati diversamente. Siccome il 2 ha subito prelievi di componenti e aveva guasti esplosivi direi che procederemo all'analisi dell'esemplare numero 3. Come sempre prima di iniziare una raccomandazione ricordando l'aspetto importantissimo della sicurezza elettrica che riguarda questi oggetti. Metteteci mano solo se siete esperti, solo se sapete quello che state facendo perché siamo a contatto con la tensione di rete e questo può causare gravi conseguenze. Per quanto riguarda la descrizione dell'alimentatore vi rimando ai video 667 e 668 dove avevamo fatto la trattazione anche con lo schema elettrico. Ora per accenderlo la prima volta andiamo come sempre a inserire in serie una lampadina a filamento della potenza di 40 watt piccolina. Nel caso in cui ci fosse un sovrasorbimento o addirittura un cortocircuito alla peggio andiamo ad accendere la lampadina alla massima luminosità. Viceversa ci aspettiamo una blinkata sulla lampadina a indicare la carica dei due elettrolitici ed eventualmente una piccola corrente che scorre per tenere vivo lo switching se fosse funzionante tale forse da accendere debolmente questa lampadina. Andiamo a suonare il campanello e vediamo cosa accade. Ok questo se vi ricordate è lo stesso comportamento che avevamo visto nel modulo 1 cioè carica dei nostri condensatori elettrolitici e poi lampadina spenta. Il che ci fa immaginare che la rete elettrica sia arrivata almeno fino a questo punto per la carica della tensione livellata di rete ma poi non parte il nostro switching. Andiamo subito a verificare la tensione continua ai capi di questi due condensatori che si trovano in parallelo. multimetro in tensione continua 195 volt qui e 192. Ok quindi c'è stata la carica iniziale adesso è passato un po' di tempo quindi piano piano la tensione si sta abbassando anzi visto che ci dobbiamo mettere mano con una resistenza come sempre gli andiamo a scaricare. Andiamo a verificare se l'integrato pvm controller che in questo caso è un cs3865 sia correttamente alimentato quindi tramite queste due clip andiamo a prendere la tensione vcc rispetto alla sua gnd quindi fra i pin 16 e 8. Questa tensione deve essere superiore a 14 volt e non deve scendere mai sotto i 10 volt come abbiamo visto negli altri episodi che è il limite di intervento dell'under voltage lockout. a seguito di diverse accensioni questa tensione non sale mai come vedete qua a un livello di poco più di mezzo volt indipendentemente da qualsiasi cosa io faccia. Con riferimento allo schema la tensione d'alimentazione è questa 13 volt che è derivata dagli elettrolitici che abbiamo visto essere in sottotensione e poi tramite questo cammino di r16 e r17 queste due resistenze viene almeno in prima battuta a essere alimentata dalla rete elettrica dopodiché come abbiamo visto se il pvm controller parte questa tensione è sostenuta dal secondario questo qui quello di servizio che tramite il diodo raddrizzatore porta poi la tensione vado quindi a misurare la tensione un pochino prima sulla resistenza r17 che è la seconda in serie dopo i condensatori elettrolitici. Anche in questo caso trovo un livello uguale a prima quindi poco più di mezzo volt. La situazione è la seguente troviamo quindi 300 volt qua sui condensatori se andiamo a misurare in questo punto troviamo zero cioè significa che tutta la caduta di tensione è su questa resistenza quindi c'è qualcosa che non va potrebbe essere che questa resistenza non sia più operativa supponiamo ad esempio che fosse interrotta potrebbe essere compatibile con questo scenario infatti qua rimarrebbe l'alta tensione qua rimarrebbe zero quindi andiamo a verificare il valore di queste resistenze r16 scusate e r17 resistenza da 100k infatti vedete marrone nero giallo andiamo a vedere 110k ok andiamo a vedere r16 quindi fra questo terminale e questo 33 mega è già questa questa sembra essere interrotta allora dissaldiamo la e misuriamo la a banco ecco la nostra brava r16 andiamo a misurare la sua resistenza circuito aperto è interrotta nostro multimetro come vedete misura correttamente ma lei è interrotta la resistenza alta che vedevano prima è spiegata probabilmente da vie parallele del circuito ma essendo questa interrotta non può arrivare ovviamente l'alimentazione vcc il primo sussulto al nostro pvm controller la andiamo a sostituire subito osservandola da vicino non ci sono particolari segni e facciano capire uno stress tipo non è che ha scaldato cose del genere è proprio interrotta ho saldato la r16 con una 100k da 2 watt vedete che il package è anche leggermente più grosso della sua gemellina r17 che sarebbe sempre 100k ora ci prepariamo a eventuali fuochi d'artificio infatti siccome abbiamo ripristinato la resistenza da 100k il cammino di potenza dalla 300 volt all'integrato pvm controller dovrebbe tornare operativo quindi se tutto va bene lui si attiva e attiva la potenza quindi se ci fossero altri guasti se ne potrebbero vedere delle belle osserviamo semplicemente cosa accade sulla lampadina senza nessuna misura pronti a spingere il campanello vai guizzo e spegnimento quindi nessun assorbimento strano andiamo a vedere adesso cosa accade sulla uscita direttamente siamo ottimisti vediamo se qualcosa è ritornato operativo metto un multimetro in tensione continua fra i pin 7 e 9 del connettore e quindi dovrei leggere una 12 volt continua diamo tensione niente questo ci insegna che nella vita non bisogna mai essere troppo ottimisti rimetto la sonda fra i pin vcc e gnd del nostro pvm controller ridiamo tensione interessante non è cambiato un granché la tensione praticamente rimane bassa vado però a misurare la caduta di tensione i capi di r 17 che è la resistenza verso il pvm controller 63 volt vedete che questa volta abbiamo passaggio di corrente quindi la resistenza che abbiamo sostituito prima comunque adesso permette il passaggio di corrente dunque su r 17 abbiamo caduta di tensione però questo nodo che dovrebbe portarsi a una tensione di 13 volt è a zero questo può dipendere o da questo condensatore o da chi assorbe sulla 13 volt e i soggetti che assorbono su questa tensione sono diversi la 13 volt infatti è quella che viene utilizzata per alimentare il nostro pvm controller tramite questa resistenza poi è anche utilizzata da questo stadio push pull però vedete che qua c'è un diodo che blocca o meglio questa è la tensione che proviene dal secondario di servizio che poi tramite il diodo in or fluisce su questo nodo 13 volt una volta che però il pvm controller è partito adesso che non è partito questo ramo non lo consideriamo perché il diodo è sicuramente polarizzato in inversa quindi andiamo a vedere se il condensatore o il pvm controller possono avere un problema tale da portare questo nodo a praticamente a massa se la nostra ipotesi è giusta dovrei trovare una bassa resistenza tra la massa e il piedino 16 l'alimentazione infatti qua leggo 4 ohm comunque un valore decisamente basso allora visto che è zoccolato possiamo togliere un attimo il pvm controller eseguiamo ora la misura di resistenza che si vede tra il pin 16 e il pin 8 del nostro integrato vcc e massa 60 ohm 230 l'ingresso e andiamo a leggere in continua tra i piedini 8 e 16 43 volt quindi senza pvm controller la catena si innesca cioè arriva la tensione ed è tale da caricare il nostro elettrolitico con il pvm invece inserito questa tensione va a zero significa che probabilmente il pvm controller ha qualcosa che non va assorbe troppo e praticamente si mette in cortocircuito fra i suoi piedini di vcc e gnd prendo il prototipo 2 quello di riserva e ripeto la misura di resistenza fra i pin vcc e gnd con il nostro controller inserito nel circuito mi metto al pin 16 e 8 vedete qui ho una resistenza decisamente molto più alta poi adesso sta calando perché stiamo con il multimetro caricando la capacità ma sicuramente non abbiamo quei 60 ohm visti quindi andiamo a rimuovere il pvm controller dal prototipo 2 e lo portiamo al prototipo 3 ho messo quindi il pvm controller del prototipo 2 nel nostro prototipo 3 quindi potenzialmente adesso potremo avere nuovamente fuochi d'artificio pronti andiamo a suonare il campanello flashata tensione rimane a 0 quindi non è cambiato si direbbe nulla a attenzione 11 88 ripetiamo il test l'ho visto in ritardo carica dei condensatori magari ci mette un po a partire eccola è arrivata la tensione si si 11 85 quindi sta funzionando è già messo veramente tanto a salire però qua la tensione ce l'abbiamo in uscita adesso andiamo a verificare le altre pin 12 meno 5 volt presente pin 11 ci aspettiamo una 22 volt 21.66 ok pin 10 5 volt analogica 50 94 bene pin 8 5 volt digitale 5.093 nella riparazione precedente per verificare le uscite avevo caricato le uscite con una resistenza e qualcuno di voi nei commenti mi ha detto ma pier ma perché non usi il carico elettronico ok questa volta usiamo il carico elettronico facciamo un test ad esempio sull'uscita a 12 volt a vuoto e la tensione vale 11.86 impostiamo una corrente di 100 miliampere costanti attacchiamo il carico elettronico l'uscita è leggermente calata 11.59 corrente quasi 100 miliampere un watt e 14 erogato andiamo a richiamare una corrente un po più importante di mezzo ampere attacchiamo il carico vedete la tensione è calata abbastanza è 10.94 potenza erogata 5.4 watt questo mi fa capire che questo switching sulla 12 volt non è che deve erogare tanto cioè secondo me la corrente nominale è minore di questa andiamo ora a vedere che faccia ha la vds del nostro mosfet che commuta quindi ci mettiamo fra i terminali di source drain di q2 con queste clip e utilizzo una sonda 100 a 1 ricordiamo infatti che sebbene la livellata sia 314 volt per questioni di induttanza energia che può tornare avanti e indietro i picchi di tensione potrebbero essere ben più elevati e quindi sempre per tenere il nostro oscilloscopio tranquillo in una zona di comfort è meglio avere una sonda 100 a 1 100 volt di visione 200 microsecondi come risoluzione temporale diamo tensione la tensione sale di livellamento fino ai 300 volt ecco che è partito lo switching andiamo ad aprire la base tempi ecco si vedono le commutazioni del mosfet adesso le fermiamo un attimo ecco che vediamo i momenti in cui conduce il mosfet sono quando appunto la tensione va a zero la sua vds va a zero il mosfet sta conducendo qua ci troviamo a vuoto per cui vedete che il duty cycle del pwm è molto basso però possiamo notare la frequenza di switching che si ripete su questi picchi siccome siamo a due microsecondi di visione e abbiamo circa cinque quadretti quindi 10 microsecondi abbiamo circa 100 kilohertz sulla forma d'onda poi notiamo anche questi rimbalzi con questa frequenza che si smorza piano piano è normale perché ricordiamoci che abbiamo comunque lo snabber e abbiamo carichi induttivi e poi praticamente siamo a vuoto quando cominceremo a tirare della corrente il duty cycle aumenterà e anche questa forma d'onda sicuramente si deforma abilitiamo le misure lasciamo perdere per un attimo la frequenza perché lui fa un calcolo non si sa bene come la cosa ci interessa è la tensione massima eccola qua 516 volt come vedete quando il mosfet si apre molla abbiamo una sovratensione che è notevole quindi questa va tenuta assolutamente sotto controllo ed è anche il motivo per cui bisogna scegliere dei mosfet con una tensione vds massima ben marginata rispetto alla livellata di rete quindi vedete 516 volt un mosfet da 600 volt insomma cominciamo a essere in area facciamo un minimo di autopsia quindi il pvm controller per qualche motivo da chiarire è andato praticamente in corto circuito fatto sta che mostrava fra la sua alimentazione il suo ground una bassissima resistenza questo ha portato a lavorare in sotto stress le resistenze che dai condensatori elettrolitici portano la corrente per l'innesco del nostro pvm controller in particolare questa resistenza da 100k una delle due prima o poi si è interrotta quindi la catena di guasti direi che è questa prima il pvm controller poi la resistenza a questo punto però il nostro switching diciamo non aveva cose gravi semplicemente era sezionato bene e quindi abbiamo ripristinato anche l'esemplare numero 3 a questo punto però viene la curiosità di vedere l'esemplare 2 che cosa ha questo è messo un po' peggio fa saltare componenti per aria quindi la cosa che si potrebbe fare è riportare il pvm controller funzionante nuovamente su questo e con tutte le cautele del caso andare a vedere qual è la situazione su questo qua fermi tutti che guido ci aveva mandato anche dei componenti e fra i componenti abbiamo anche i controller per cui invece di sostituirlo da quello che abbiamo appena riparato che lo andiamo a chiudere lo andremo a prendere direttamente nuovo ecco il temuto esemplare 2 collegato alla nostra lampadina decido di non mettere il controller subito voglio vedere così semplicemente dando la 230 cosa accade pronti anche in questo caso a eventuali fuochi d'artificio andiamo a suonare il campanello no neanche malaccio quindi solita flashata quindi ci aspettiamo i condensatori carichi andiamo a verificare la tensione al pvm controller sullo zoccolo la tensione come potete vedere è solo di un volta e mezzo quindi ridiamo una scampanellata ma praticamente non si muove da qui quindi c'è qualcosa che non va nella catena a monte misuro la caduta ai capi di r17 la seconda resistenza da 100k quella che porta appunto la tensione di livellamento verso il pvm controller vedete 0.2 volt quindi praticamente non c'è caduta ai capi della resistenza r16 quella che è a monte invece 220 volt questo è un film che abbiamo già visto l'abbiamo visto da poco cioè in pratica tutta la prima resistenza si sta sorbendo la caduta di tensione e fa circolare corrente qui andiamo a misurare la resistenza prima della r17 qua è buona 108.9 kg vediamo la r16 quella prima invece questa questa è in alta resistenza non è più 100 kg quindi direi di andare a dissaldare la r16 questa resistenza qua andiamo a misurare la la nostra r16 a banco quindi ometro ci mettiamo fra i terminali proprio interrotta eh allora la resistenza che vedevamo prima probabilmente si richiude tramite i cammini paralleli quindi questa volta si è interrotta la r16 ecco la nostra nuova resistenza da 100k 2 watt in pista r16 ho posizionato sempre il multimetro in continua fra vcc e gnd dell'integrato andiamo a dar tensione no qua non arriva ancora niente su schede così vecchie è facile che le piste una volta saldato il componente possano un po' scollarsi è il caso di questa r16 vedete questa pista si è leggermente sollevata ora per fare una connessione affidabile conviene che facciamo un'affilatura lato saldature resistenza la colleghiamo direttamente al più dell'elettrolitico tramite questo cavo diretto mettiamo il multimetro in continua sui pin vcc e gnd del nostro zoccolo del pvm controller e diamo tensione ecco vedete che con la carica capacitiva quindi la sua costante di tempo la tensione è regolarmente salita a quei 40 volt che avevamo visto anche nell'altro esemplare quindi è il momento di rimettere il pvm controller visto il tipo di comportamento molto simile a quello che abbiamo visto prima che ne dite proviamo la fortuna andiamo a mettere il multimetro in continua sull'uscita sempre 12 volt e diamo tensione col nuovo pvm controller inserito vai carica capacitiva eccola qua 12 34 quindi anche questo esemplare ha seguito si direbbe le sorti dell'altro stesso guasto visto il tipo di comportamento molto simile a quello che abbiamo visto prima che ne dite proviamo la fortuna andiamo a mettere il multimetro in continua sull'uscita sempre 12 volt e diamo tensione col nuovo pvm controller inserito vai carica capacitiva vado ora eseguire lo stesso test sull'uscita e non vi preoccupate ve lo mando accelerato e rallenterò le riprese solo se avremo dei problemi questo è il pin 12 tensione meno 5 volt nominale meno 5.25 ok pin 11 tensione nominale 22 volt misuriamo 22.27 volt questa volta un pochino più alta pin 10 5 volt analogica 5.36 ok pin 8 5 volt digitale 5.37 ok pin 6 30 volt nominali 28.1 un po bassa ma ok per quanto riguarda l'autopsia di questo esemplare direi che le cose sono andate più o meno così visto che abbiamo un pvm controller che era risultato in corto secondo me sono state fatte delle sostituzioni di controller da una scheda all'altra e lavorando in corto con la tensione di rete la resistenza r16 è quella che si trova subito dopo il condensatore di rivellamento e quindi praticamente lavorava in una condizione di stress il che ha portato allo stesso identico guasto sui due prototipi quindi mi viene da pensare che sia anche fra virgolette una debolezza di questo progetto anche ripetitiva cioè col passare degli anni se il pvm controller va in tilt e si mette in quella situazione succederà anche quel tipo di guasto sulla resistenza tanto è vero che si è ripetuto esattamente identico ora considerato che quelle resistenze prendono una bella botta di energia quando l'elettrolitico va carico direi di andare a sostituire anche le r17 in tutti e due gli esemplari e poi sono passati tanti anni quindi siccome abbiamo messo una resistenza nuova da 2 watt andiamo a cambiare anche quelle in serie sempre con una resistenza nuova così almeno per quella parte che potrebbe essere una debolezza mitighiamo il rischio che possa interrompersi poi quell'altra ho sostituito anche l'r17 nell'esemplare 3 il primo che abbiamo visto questa sera anche in questo caso vedete che le piste tendono ad arricciarsi e quindi ho fatto un passo direttamente sul lato saldature bene e con questo termina la saga sulla riparazione degli alimentatori per ricevitore satellitare ecostar lt 8007 sul primo esemplare avevamo avuto un caso sospetto di inversione polarità del trasformatore su questi altri due invece un guasto provocato dal pvm controller che era andato in corto aveva portato le resistenze ad alto valore di innesco del pvm in aperto come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su se ce la fate questa sera mettete due like visto che la riparazione è stata doppia io vi saluto ciao e alla prossima ciao